L'antella è il mio paese, l'unico posto nel quale mi sento a casa sereno e felice. La piazza con la chiesa e la stato del Peruzzi sono il suo simbolo e luogo di aggregazione. Vederci crescere mio figlio Mattia e i suoi fratelli Cristian e Giulia è una gioia ogni giorno. Nonostante i miei genitori ci siano cresciuti in periodo di prosperità ho solo un po' di preoccupazione per il mondo che abbiamo lasciato in eredità a questi ragazzi. Siamo nel 2022 e l'uomo dimostra di aver imparato poco e niente dagli errori delle guerre precedenti. Oggi abbiamo ben altri problemi da affrontare, invece c'è che continua a creare ostilità, morte e distruzione. La storia ci insegna che la giustizia è data solo dai vincitori, sebbene non siano del tutto esenti dall'aver commesso dei crimini. Partigiani inclusi. Penso che sia giusto ricordare ai giovani il prezzo pagato ieri da alcuni per regalarci la libertà che abbiamo oggigiorno. A me piace onorare tutti coloro che come Sergio hanno combattuto per la libertà e la fine delle oppressioni tra i popoli. È a loro che va il mio grazie. Grazie.